Sono spuntati come funghi pochi giorni fa i 18 spazi magici, così si chiamano, che connotano i più interessanti punti panoramici di Madesimo e Campodolcino, manufatti in legno, ecosostenibili e smontabili nel periodo invernale per evitarne il deterioramento, che si affacciano sulle cascate del groppere di Pianazzo, sulla diga di Montespluga, il pizzoquadro di Motte, poi ancora il Cardinello, gli Andossi, il groppere, il ferrè, lo Spadolazzo, Maccolini e il torrente Scalcoggia. Per non dire dei punti di osservazione di Campodolcino, Fraciscio, Gualdera e Starleggia. Nel giro di due mesi un team affiatato, guidato da Giovanna Mosca di Busto Arsizio, ma con residenza e cuore nella perla della Valle Espluga, ha allestito il tutto avvalendosi del supporto del municipio Madesimino. Ma com'è nata l'idea? Una sera io e i miei ospiti ci siamo divertiti a fotografare attraverso una trafila, che è un vecchio attrezzo per produrre le candele artistiche, ci siamo divertiti a fotografare attraverso questa trafila alcune immagini della cereria. E ho voluto quindi trasferire quest'idea qui in Valle Espluga. Un'iniziativa semplice ma capace di attirare l'attenzione dei visitatori. Piace ai turisti? Tantissimo, si divertono a fotografare, infatti sono invitati ad osservare e a fotografare attraverso la cornice. Quindi osservando all'interno di queste cornici il paesaggio viene visto in una maniera diversa. Poi c'è anche un cartello dove viene spiegato cosa si osserva. Con traduzione in lingua inglese, perché anche se in questo periodo post-ferragostano la clientela numerosa e soprattutto italiana, non mancano le presenze di turisti stranieri, con l'obiettivo di implementare il progetto il prossimo anno, introducendo nuove postazioni. L'idea è quella di creare un progetto più ampio che possa valorizzare questa bellissima valle, la Valle Espluga. Noi abbiamo aderito a questa iniziativa anche perché crediamo che molti turisti non conoscano tutto il territorio e non conoscano questi spazi magici che Giovanna Mosca ci propone. Un'iniziativa a costo prossimo allo zero, utile ad aumentare la capacità attrattiva della località, fermo restando che nel cassetto l'amministrazione Masanti ha interventi importanti da portare a termine. Innanzitutto adesso siamo presi per il completamento del palazzetto polifunzionale, poi porteremo a termine anche il wellness spa che stiamo realizzando, per cui sono già due opere molto importanti che sicuramente contribuiranno ad un'offerta più sostenibile e più importante per Madesimo. E poi resta l'annoso capitolo della ristrutturazione degli alberghi storici, Cascata Cristallo e Torre. Il Cascata è andato all'asta, è stato acquisito da una società milanese, il secondo invece dovremo aspettare a settembre per avere qualche sviluppo nuovo.